Domenica 28 febbraio, Ruvo di Puglia e gli altri paesi interni della Murgia si sono ritrovati letteralmente imbrigliati nella morsa del vento che fino alle 2 di notte non ha lasciato scampo. Il giorno dopo si sono contati i danni lasciati dal ciclone Golia capace di mettere K.O. un'intera città e c'è davvero da ringraziare che si registrino per fortuna danni solo a cosa e non a persone, ma in più di un episodio la paura è stata tanta. Il racconto di questa domenica pomeriggio tremenda comincia alle ore 17 circa quando i primi bidoni della differenziata delle attività commerciali cominciano a gironzolare per le strade della città. Il buon senso dei cittadini ha ripristinato la viabilità stradale in più di una circostanza molto rapidamente. Le raffiche di vento si sono fatte sempre più incessanti e attorno alle ore 19 crollano i primi alberi. In via Riccia da Parma un pino cade su una vetura parcheggiata mentre quasi in contemporanea la villa di Piazza Dante viene fatta evacuare dopo che un albero si spezza rompendo una panchina. Le raffiche superano i 100 chilometri orari, la protezione civile dirama un bollettino di allerta di criticità rossa. Si registrano le prime interruzioni di energia elettrica in città. Calentano si spacca idealmente a metà e nella zona in cui è avvenuto il blackout le case restano al buio fino alle ore 22 circa. Nel frattempo dei balconi vola qualsiasi cosa, vasi, tavoli di plastica, immondizia. L'invito a non uscire di casa si fa sempre più incessante. Alle ore 20 circa arriva un'altra segnalazione. Ci troviamo sulle stramurali Scarlatti dove un pannello pubblicitario è stato completamente devastato mentre il cancello dell'ingresso dello stabile della cantina cooperativa non ha retto la forza d'urto del vento. Anche in via Don Minzoni dove c'è uno scavo a cielo aperto le recinzioni volano via lasciando in pericolo quella zona. La polizia municipale, i vigili del fuoco e i volontari della pubblica assistenza a ruvo non hanno un momento di tregua. Le segnalazioni si fanno sempre più incessanti e la morsa del vento. Non dà tregua. Attorno alle 21 tanta paura per un impianto pubblicitario di manifesti 6x3 che crolla al suolo nel momento in cui per fortuna nessuna vettura transita. Ci troviamo sulle stramurali Pertini, angolo via Corato. Nel frattempo i tetti cominciano a far temere il peggio in più di un'abituazione. Nei pressi della cattedrale la copertura superiore di un palazzo viene completamente portata via dal vento. In via dei floricoltori viene ritrovata una guaina volata via da chissà quale palazzo e trasportata in quella zona dal vento. Mentre dai tetti c'è chi teme che qualche antenna non regga. Attimi di tensione per la caduta di alberi. Uno sulla provinciale Ruvo Terlizzi che interrompe la circolazione stradale. L'altro al secondo Carraro della difesa comunale che sradica anche i fili della corrente elettrica. La forza di Golia pare inarrestabile e lascia i segni anche nella zona mercato dove è devastata la recinzione che delimita la parte interessata dai lavori di costruzione. Parco Mennea mostra le ferite lasciate dal vento. Cestini divelti e occorrerebbe mettere la zona in sicurezza il prima possibile. Verso le 2 di notte l'emergenza sembra finita e la città stravolta. Prova a riposare per dimenticare la terribile serata. All'indomani si contano i danni. Quelli più gravi li abbiamo registrati presso la piscina comunale dove le attività sono sospese fino al 2 marzo. Occorre intervenire subito per rimettere in sesto il tetto ed evitare che continuino a filtrare acqua e detriti nello spogliatoio femminile.